Rimuovere e poi bloccare Snap da Ubuntu e derivate. Scarse prestazioni e problemi di privacy le principali motivazioni. Ecco come eliminare lo store di Canonical, integrare se necessario Flatpak nel centro software e installare Firefox in Debb. Richiede l'uso del terminale, ma i comandi sono spiegati ed il tutto richiede un quarto d'ora. Ciao da Dario di Alternativa Linux. Alcuni utenti di Ubuntu derivate, ufficiali e non, lamentano la sempre maggiore integrazione e dipendenza dal formato Snap del loro sistema operativo. In Ubuntu, gli inganni di Snap e il controllo di Linux ho documentato come il browser Chromium nei repository Ubuntu contenga una backdoor. Questa installa la versione Snap invece di quella richiesta. Anche in un sistema che non prevede nativamente Snap, l'utente si ritrova collegato senza alcun avviso a questo store proprietario e non controllabile. Non basta neppure rimuovere tutti gli Snap lo store stesso per ritrovarselo installato a propria insaputa, anche successivamente. Alcune distro su base Ubuntu, tra cui Linux Mint, Body Linux, Elementary OS e PopOS, non integrano Snap e le prime due ne bloccano anche l'installazione successiva. Consiglio vivamente di prenderne visione prima di procedere. Questo tutorial è il seguito. Oggi vediamo come verificare il nostro sistema, come integrare nel centro software il supporto per il formato alternativo FlatPack, se già non previsto, e come installare Firefox in modo alternativo al formato Snap. Poi, come eliminare ogni programma Snap e lo store canonical, e infine come bloccarne l'installazione successiva. Ti ricordo che il tutorial nel blog è pieno di link e ti consente di copiare e incollare i comandi senza fatica. Le mie istruzioni per disinstallare Snap da Ubuntu o da altra distribuzione GNU Linux non rappresentano un invito a farlo. È più facile e conveniente cambiare sistema operativo. Ho effettuato diversi test e tutto funziona, ma non posso garantire per il futuro. Sradicare un meccanismo sempre più centrale per Canonical potrebbe creare problemi su prossime versioni dei sistemi operativi basati su Ubuntu che adottano Snap. Ad esempio, il nuovo strumento di gestione del firmware di Ubuntu 2310 è disponibile solo come Snap. Verifica quindi la data di pubblicazione quando vedi il video. Una soluzione semplice per fare la maggior parte del lavoro esisterebbe. Il programma UnSnap verifica gli Snap nel sistema e installa automaticamente gli equivalenti Flat Pack, se disponibili, prima di rimuovere lo Snap Store. Purtroppo ho sperimentato che è tutt'altro che completo, non aggiornato e non funziona, con Ubuntu 22.04.3 LTS, Ubuntu 23.10, Zorin OS 16.3. Ci ho perso non poco tempo e lo escludo. Ricerche e test mi hanno comunque permesso di identificare una serie di passaggi per sbarazzarsi di Snap e impedirne successivamente l'installazione non intenzionale dai ripositori di Ubuntu. L'ho provata con le distro appena citate ed ho verificato il funzionamento del blocco anche con Elementary OS 7.1 e Pop OS 2204. Prima di qualunque intervento, se non sai bene quale sia la situazione del tuo sistema operativo, ecco come verificarla rapidamente. Apri una finestra di terminale e digita Snap List. Se Snap è presente, vedrai l'elenco dei programmi installati in questo formato. Se invece leggi Comando Snap non trovato, significa che non è installato. Ottimo! La strada è più breve. Salta direttamente alle operazioni per bloccare lo store sotto lo stratagema di Linux Mint. Quanto al supporto per Flatpak, a partire da Ubuntu 23.04, in tutti i gusti ufficiali, è stato abbandonato. Ufficialmente creava confusione negli utenti, ma in realtà serve a spingerli verso Snap. In caso di dubbi, per sapere se hai già supporto per Flatpak, apri il terminale e digita questo comando. Come prima, se la risposta è Comando Flatpak non trovato, è necessario integrarlo. Altrimenti ottieni la versione di Flatpak installata e non devi intervenire. Per attivare il supporto Flatpak in una distribuzione GNU Linux su base Ubuntu che non lo prevede, si usa un comando. Il comando è parzialmente differente per Ubuntu e altre distro con ambiente Desktop Plasma di KDE. In entrambi i casi, oltre ad installare il supporto per il formato, abbiamo chiesto anche una versione alternativa del centro software di Ubuntu e l'integrazione in Plasma Discover. Solo così troverai i deb dei repository e anche tutti i Flatpak e potrai installarli con un click invece che usare la riga di comando. Dobbiamo però collegarci ad uno dei suoi repository prima di poter installare un Flatpak. Tutti suggeriscono il più famoso e ricco di applicazioni, FlatHub. Ecco il comando da lanciare nel terminale. Potrebbe essere necessario riavviare il sistema o anche solo la sessione Desktop. Attenzione se anche il browser Firefox risulta installato come Snap nel tuo sistema. Ubuntu prevede un pacchetto deb nei propri repository, ma il comando sudo apt install firefox scarica il pacchetto vuoto che, anche se precedentemente eliminato, attiva senza permesso né avviso lo store snap e installa il browser in questo formato, proprio come fa con Chromium. Il modo migliore per integrare Firefox in formato deb in Ubuntu e nelle derivate che non lo compilano appositamente come Linux Mint o PopOS è quello di ricorrere al PPA di Mozilla su Launchpad. Lo integri tra le fonti software con questo comando. Aspetta però ad installare Firefox con il comando apt citato poco fa, perché prevarrebbe ancora comunque il pacchetto dei repository Ubuntu e l'installazione dello snap, anche se hai già eliminato lo store dal tuo sistema. Se l'hai anche già bloccato, non riusciresti ad installare il deb comunque. Riceveresti un messaggio di errore per l'impossibilità di installare la predipendenza da snap. Mi spiace per la complicazione e se Ubuntu ti delude, ma stai scoprendo sempre meglio come Canonical si comporta con i propri utenti e deforma la propria base Debian in modo... AB norme. Questo è il comando per installare la più recente versione di Firefox con apt, specificando, tramite l'opzione "-t", che sta per Target Release, che l'origine deve essere il PPA di Mozilla e non il repository di Ubuntu. Al termine dell'installazione, apri il menu, digita Firefox e con il pulsante destro su Aggiungi ai preferiti per mettere il nuovo arrivato nella dock. Tramite i PPA di Mozilla, il browser però non riceve aggiornamenti automatici. Se vuoi provvedere in questo senso, copia e incolla questo unico lungo comando nel terminale. Tale comando crea un file di configurazione per apt e abilita il PPA di Firefox tra le fonti abilitate a ricevere aggiornamenti appena sono disponibili. Mozilla suggerisce di installare Firefox dai repository della propria distro. L'alternativa PPA non è il primo dei modi alternativi consigliato. Ogni PPA fa riferimento a dipendenze richieste nel sistema. Se queste non sono presenti, potresti ricevere un errore. Se hai provato le operazioni che ho appena descritto per la versione PPA e incontri problemi, hai ancora la possibilità di installare Firefox in formato flat pack, che è il mod suggerito da Mozilla in alternativa al pacchetto presente nei repository della propria distro. Resterebbe anche la possibilità di compilarlo dal codice sorgente, ma dovresti verificare le dipendenze e prevedere una serie di passaggi che non mi sento di consigliare al mio spettatore abituale. Garantita la presenza del browser in formato non snap, possiamo procedere ad eliminare e rimuovere gli snap installati. È necessario procedere in questo modo perché la sola disinstallazione di SnapD non rimuove gli snap, che sono parte del meccanismo dello store. Abbiamo lanciato il comando snap list per verificare la presenza di snap. Esso elenca i panchetti presenti nel sistema. Per ognuno di essi è indispensabile lanciare il comando sudo snap remove nome programma. Sono richiesti i privilegi di root. Potresti usare anche snap remove senza sudo, ma poi dovresti digitare la password ogni volta. Ritengo che la strada giusta sia quella di rimuovere prima Firefox e gli altri programmi da te installati in questo formato, poi librerie gtk, ambiente desktop gnome e file di integrazione desktop. Per ultimi rimuovi nell'ordine snap store, core 20 e o core 22, bear ed infine snapd. Non riporto singolarmente i comandi perché non è possibile prevedere quali siano le versioni nel tuo sistema. Sono differenti anche tra versioni differenti di Ubuntu. Ma ti do una dritta. Per non digitare l'intero nome di ogni pacchetto puoi usare i primi caratteri e premere il tasto TAB sulla tastiera per completarli automaticamente. Se i pacchetti che corrispondono ai caratteri digitati sono più di uno, non succede nulla. Devi aggiungerne altri perché l'identificazione sia certa. Un'altra dritta consiste nell'uso della freccia in alto sulla tastiera all'interno del terminale. Le pressioni ripetute della freccia restituiscono nella riga gli ultimi comandi digitati. Puoi quindi evitare di digitare ogni volta sudo snapremove eliminando gli ultimi caratteri ed inserendo il nome del pacchetto successivo. Potrebbe interessarti il mio video il terminale di Linux Mint introduzione alla shell in tema con questo argomento. Al termine delle operazioni di rimozione prima di proseguire effettuano una nuova verifica con il comando snaplist a conferma che siano stati rimossi tutti. Tutti i programmi snap sono rimossi ma i servizi di snap sono ancora lì. pronti a succhiare risorse. Bene arrestarli e anche disattivarli per impedire che il controllo automatico degli aggiornamenti interferisca con le operazioni. Usiamo il comando systemctl che si occupa di aspetti di amministrazione basilari. Lancialo in questa forma. Una volta arrestato il servizio snap lo disattiviamo con sudo systemctl disable snapd. È il momento di provvedere alla disinstallazione di snapd e alla rimozione di file di configurazione. Usiamo apt purge in questa forma. sudo apt purge-y snapd in modo da disinstallare il programma, rimuovere configurazioni e rispondere automaticamente sì, yes, con l'opzione "-y", a tutte le domande del tipo sei sicuro? che si frappongono tra il lancio del comando e la fine del procedimento. Snapd e gli altri file presenti nel sistema sono stati eliminati. Il comando apt purge però non tocca contenuti all'interno di home nelle singole cartelle degli utenti. Per fortuna. In esse però sono conservati altri residui. Non creano problemi e non occupano spazio significativo, ma eliminiamoli. La cartella snap all'interno della home degli utenti può essere eliminata anche con un cange nel file manager. Oppure così. Come anticipato però le operazioni sin qui descritte non sono sufficienti ad evitare che snap possa essere installato di nuovo inconsapevolmente tramite apt. Questo vale solo per le distribuzioni GNU Linux che adottano i pacchetti dei repository Ubuntu come base. E nemmeno tutte. Quindi ad esempio non corre alcun rischio di installare snap inconsapevolmente in Debian e ancora meno nelle distro di altre famiglie che non usano apt. Ma non corre il rischio con Linux Mint nelle tre edizioni basate su Ubuntu e neanche con LMDE. Non è necessario intervenire nemmeno in body Linux che adotta il medesimo stratagemma di Linux Mint. È invece necessario prevedere il blocco in PopOS 2204, Zorin OS 16.3 e anche in Elementare OS 7.1. Il team di Linux Mint ci fornisce un esempio perfettamente funzionante ed è questo che seguiremo. Linux Mint ha modificato il comportamento di apt con l'aggiunta di un file tra le preferenze di tale comando. Il file nosnap.pref si trova in questo percorso. Come si legge nella descrizione aggiunta al file da Linux Mint, per impedire ai pacchetti nei repository di provocare l'installazione di snap, questo file impedisce che snapd venga installato tramite apt. Tecnicamente infatti il file assegna al pacchetto snapd un valore negativo di priorità. Ciò significa non installare mai alcuna versione di snapd neppure se è requisito o dipendenza di altro programma che installo con apt. Il modo più semplice e universale che mi sia venuto in mente per creare il file con il contenuto atteso richiede di aprire nano, l'editor di testo della shell Linux con i privilegi di root richiesti per scrivere in etc. Adesso inserisci queste righe di contenuto nell'editor del terminale. Premi poi CTRL-O, poi invio per salvare il file, poi CTRL-X per chiudere l'editor, infine chiudi il terminale. Al riavvio il tuo computer non potrà più essere sfruttato per installare programmi snap senza la tua volontà. Nel caso tu cambiassi idea su snap dovrai prima eliminare il file nosnap.pref con questo comando. Poi basterà installarlo nuovamente con sudo apt install snapd. Se non trovi ancora gli snap nel centro software potrai integrare nuovamente il supporto degli snap con il plugin nome software plugin snap. Lo trovi nel centro software stesso per installarlo con un click o con sudo apt install gnome software plugin snap. L'ho detto fin dall'inizio che questo è uno dei tutorial più complessi che ho pubblicato. Solo tu puoi renderti conto se valga la pena affrontare tutto ciò. Per rischiare inoltre che sistemi basati su Ubuntu dalla versione 24.04 in poi risultino compromessi dalle operazioni descritte. Potrebbe ancora valere la pena passare a Linux Mint Debian o a tutt'altro senza complicarsi la vita. Ti ricordo infine youtube.com slash alternativa linux per scoprire i video già pubblicati il blog con le versioni testuali dei tutorial il canale telegram ed i miei testi su linux su alternativa linux.it slash libri Grazie per la tua attenzione e a presto!